Continua il dibattito Grandi Navi sì, Grandi Navi no. Audizione consigliare ieri sul tema e a parlare stavolta non un esponente del comitato No Grandi Navi, ma la vicepresidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Stefania Stea. Secondo la vicepresidente, l'idea che dal traffico croceristico si attivi un grande indotto per la città e il turismo è tutta da sfatare. Dati dell'ente bilaterale alla mano, solo il 3,8% dell'occupazione alberghiera è dovuta ai turisti di crociera per non parlare dell'impatto sulla città che i turisti hanno, equiparabile a qualsiasi turista da terraferma che vede San Marco e se ne va senza visitare mostre o quant'altro. Un impatto modesto, briciole per la città insomma. L'indotto c'è ma è ben poca cosa secondo Stefania Stea. E domani il sindaco Giorgio Orsoni è atteso in commissione per scoprire le sue carte, quelle del progetto per tenere lontane le navi dal bacino San Marco e farle arrivare a Venezia attraverso il canale dei petroli a Marghera. Una delle tre proposte insieme a quella dell'autorità portuale con Paolo Costa di scavare il canale con torta Sant'Angelo o quella di Cesare dei piccoli che vorrebbe creare un termine alla punta Sabbioni. Qualcosa dunque si muove ma di certo non sono gli indotti dei turisti da crociera né tantomeno le navi da bacino San Marco almeno per ora.